Grande successo per il primo anno di formazione e attività clinica della Scuola di Formazione in Chirurgia Robotica della Statale di Milano e dell'Ospedale San Paolo. 200 interventi ad alta complessità che diventeranno circa 300 a fine 2021. Tecnologia e professionisti sono il nostro live motive, ci muoviamo su questo filone per il rilancio degli ospedali pubblici in Milano che ha un'offerta incredibile di servizi. Abbiamo bisogno quindi di professionisti e di tecnologie per continuare a crescere. La scuola è partita, è partita bene sia dal punto di vista della formazione che è quello che ovviamente interessa maggiormente la componente universitaria, quindi didattica e formazione ma anche per quello che riguarda l'attività assistenziale perché sono stati realizzati molti, molti interventi. L'offerta formativa per il nuovo anno accademico sarà allargata agli studenti del corso di laurea in medicina con corsi professionalizzanti, internati e seminari dedicati. E sono 50 gli specializzanti che con diverse modalità potranno accedere alla scuola di formazione, oltre ai discenti provenienti da università di altre regioni italiane ed europee. Il 2021-22 è l'anno della ripartenza, la parte clinica è già ampiamente ripartita perché ormai stiamo operando a pieno ritmo e invece partirà anche la parte didattica, soprattutto per gli studenti dell'università che nell'anno precedente non hanno potuto venire in ospedale e quindi hanno perso quella parte professionalizzante che è una parte importantissima della scuola di medicina e chirurgia. Il termine robot in realtà è improprio, non c'è nulla di automatizzato in questo momento, parliamo di un sistema, di un servosistema che ci aiuta a essere più precisi, ma è uno strumento che noi dobbiamo gestire, quindi il fattore umano è ancora assolutamente determinante. Il sistema tecnologicamente avanzato ci consente di rendere più riproducibile una procedura, renderla più sicura e più efficace, soprattutto in termini oncologici funzionali. Grazie.